Ecco che si defluisce dalla piazza C'è un problema di cocco il signore Mai prendere in giro la persona un po' così Ieri c'era un ragazzo down e io l'ho fatto giocare con noi Hai fatto bene Lory, queste Sono normali, sono come noi Sono esseri umani e vanno rispettati E se c'è qualcuno che si permette di prenderli in giro gli dà lo schiaffo Morale però, no fisico? Morale Oh stasera Firenze in stile Barcellona Qua E' una voglia, certo che ci sono i bustini Ci porta a piazza di Beccaria, andiamo Dai, recuperiamo velocità Ah perché lì c'è il tappo, capito? C'è lì la signora del tabacco Andiamo dritto che è la strada più breve O vogliamo passare da Santa Croce Per odorare l'udono Mi serve il numero di rizzeri, è il titolo Perché? 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 Si va verso Palazzo Vecchio Fare una giratina Basta, ora chiudi Ecco che c'è un motociclista Forse hanno ragione loro ? C'è un Skyrim